Dal disordine mondiale alle possibili soluzioni per un nuovo sviluppo, dall'etica alla finanza sostenibile, dalla rivoluzione ambientale alla autonomia alimentare ed energetica, dalla cultura come volano di ricchezza al ponte tra chi ha risorse e chi ha idee. L'edizione 2022 del Festival del Futuro ha tracciato la rotta per affrontare e vincere le grandi sfide che ci attendono ed è riuscita nell'obiettivo di allargare il perimetro del dibattito alle nuove conoscenze in tema di Big Data, intelligenza artificiale e metaverso. Non tutto è tornato ancora al proprio posto. Ora servono visione, condivisione, una buona dose di utopia positiva e soprattutto, come insegna da quattro anni il Festival del Futuro, saper osare. Ricordando che dalle crisi si esce più forti. Grazie. 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 Grazie.